Oh, io e tu sei un tanto lo che ho E stasera nel crescente A metà episodio sei sopra di me Tu che sei arrivata a datiare te A costo di vedere il felice me Io che quando sono un po' giù Chi sei tu e si difetti con te Non c'è io più E scappiamo da domani E qua giù Tanto sono tutti romani E passi tu l'oltre Sopriamo da qui Non lo so Basta li segui E come starò Non mi porti a puo Tanto è tutto carino Se ci sei tu Se ci sei tu e volto Ok ragazzi direi di basta musica Ehm... Bello dei ragazzoli e ragazzoli sono Linway E bello dei ragazzoli e ragazzoli sono Linway E bello dei ragazzoli e ragazzoli sono Linway E oggi ragazziamo qui su Minecraft Ehm... Ragazzoli come avete non abbiamo più nessun fucking problema di lag Perché il vostro leer mitico ha pensato delle idee straviglianti Ehm... In realtà non ho fatto niente Però dettagli Perché io essere un mito come vedete Lebo Like Zero Tic Comunque ragazzi Vediamo adesso un attimo Che qualità sto dicendo Perché non mi ricordo più Perché ho cambiato programma Per fare il video Ehm... Quindi non so bene in quanto sto recando Vabbè 480 Va bene lo stesso Dai Ehm... Però come vedete Ehm... Ehm... Come non... Cioè è fluidissimo Come neanche non stai facendo la live Però... Va da dio Cioè... Va da dio Comunque Togliamo qui la seconda live Ne lasciamo solo una Ok A posto O... Comunque Allora Vediamo un attimo Se c'è Chi c'è sul server Ok Ragazzi Io vi sto un po' sempre Domani mattina Ti vuoi di Registrare O di farci una partita Va bene brother Io ci sarò sempre Alla mattina Comunque Per se... Per me mattina vuol dire le... Dodici Ultimamente per me mattina vuol dire le dodici Ragazzi se volete entrare nel server Il link C'è il link L'IP E' questo Aperto A tutti ragazzoli Proprio a tutti voi Se volete entrare Ovviamente Siete tutti i miei invitati L'unice requisito Dovete lasciare un mitico like In iscrivervi al canale E Attivare la mitica campanina Perchè mi invita veramente tanto Comunque Ok Ci sono E' strano Non si sono inviate le feed mi sa Comunque ragazzo Le sto premonando una mega sorpresa Sia per voi E anche per la mia ragazza Adesso sto parlando giusto con il mio amico che Ha detto che mi dava una mano Cioè E non ha detto che mi dava una mano Le ho chiesto sui Ha detto che è facile Però io non lo so fare Quindi Boh Ehm Cominciamo a giocare Verso le 9 Va bene Ehm Per te va bene Se sono sveglio si Ciao bro Ciao Mattia Come stai? Benissimo Mattia Allora ragazzuoli Ti ho messo like Grazie mille Mattia Ehm Mi raccomando ragazzuoli Lasciate un mitico like In iscrivete E attivate La campanellina Perchè mi aiuta veramente tanto Allora Ok Abbiamo giusto condiviso un po' la live Bella mattina Per me C'è ultimamente Visto che non mi baso a scuola Mettiamo visto live tutti i giorni Attivo sul canale Per Ehm Giocare tanto insieme a voi Perchè a me piace giocare insieme a voi Allora poi diciamo Sì no veramente Diciamami quando Alle 9 Tu chiamami Perchè io Se no non mi sveglio fino alle 11-12 Ti sei divertito? Ehm bro Sì Con la mia tipa Sì Comunque ragazzi Come vedete Abbiamo fatto un bellissimo ricinto Qui Ma l'unico problema E' che qualcuno Si è fottuto tutte le patate che c'erano qua E noi non abbiamo le patate Quindi non riusciamo più a fare farm di patate E questa cosa ragazzi non mi sta bene Ve lo dico che non mi sta bene Andiamo a vedere subito se Vanni c'ha qualche patata Oddio Oddio doppio senso patata Oddio doppio senso patata Non in quel senso patata Non pensate male Non fate come me Io spero di avere delle patate non cotte Oddio 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 Ehm Oddio 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 Ok Direi di andare ancora un po' in minis Sì ma ti ho capito cosa intendo Ok facciamo così Allora vediamo quanti diamanti ho Ho qualche diamanta Allora facciamo una cosa bella Visto che oggi ci mettiamo ad aiutare un po' gli iscritti Direi di trasportarmi un attimo dal ragazzo qua Allora come che stiamo Slash tp E poi il ragazzo che è questo Ok What Bella Regalo Di babbo Natale Regalo di babbo Natale Non potremmo vederne con cos'altro Ragazzi suicidiamoci Ok Allora Volevo fare un'altra cosa Cioè volevo considerare una casettina Bro Ho un'idea Dimmi Matti Qual è la tua idea Geniale Geniale Ok Di fare una torre Di fare una torre Ok Comunque La torre No Cioè Abbiamo qui una torre Comunque Sarebbe una bella idea Fare una torre Matti Mi ha dato una bella idea E adesso la facciamo anche Però non come quel che ha fatto Tommy Perché È troppo lunga Ci metterò Un anno e mezzo A farla Sinceramente Non Non c'ho tempo Pure se sarebbe Bello impegnativo Ok Allora Qui Qui non avrò bisogno Di nessun piccone Ok Vediamo un attimo qua La potrei fare là Là Qua Ok Dammi Questo L'ho fatto bene A dirti La mia idea Sì bro Che adesso la faccio anche La tua idea Allora Dovrei ancora un po' di più Allargare qua Ok Allora Possiamo farla Da qua Ok da qua Uno Due Tre Quanto la facciamo alta Cinque Sei Sette Otto Nove Facciamola di nove Due Tre Fino qua Basta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Sbagliato Contare Allora Più in alto Ok ci siamo Bella Lorenzo Su Come Su Coitì Ho visto Hai visto la mia casa Bro Ho visto la tua casa E sinceramente Mi piace Veramente Tanto Tra un po' Entro Va bene Explorer Oppure Fai anche Una Casa Sull'albero La casa Sull'albero Ce ne abbiamo Già Ce ne abbiamo Due Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ma è di Otto O è di Nove No lo fate Di Otto Vabbè Non importa Otto Nove Cambio solo Di un blocco Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Non capisco Vabbè Allora Ragazzi Poi vi devo spiegare Perché questo coso Era un Tempio Era un Tempio Della Era un Tempio Della Macarena Era un Cazzo Nerf Fluviale Ok Uno Due Tre Quattro Vediamo Ragazzi Cosa Uscirà Ok Vai Troppo Lungo Ok E ci sta Fino Qua Ci Siamo Cosa Lorenzo Stonks Gaetano Gaetano Sorry Non ti ho letto Bene il nome Mi che si possono giocare Tutti i giocatori Passavolta Crasciate like E siete iscritti al canale E potete giocare tutti Sono gli unici E se siete iscritti al canale A lasciare like al live Ok Allora Prendiamo un po' la legna Qua Guarda che Voglio fare un Modellino Tipo Adesso vediamo Come uscirà Secondo me Uscirà bene Ok Uno Due Tre Ok Ragazzi Mi serve un bel po' di legna Su Comunque ora La casa Oltre di piani Si l'ho vista Brother Devo finire il terzo Si però l'ho vista Comunque Dobbiamo andare a prendere legna Perché siamo A scorta di legna Andiamo giusto un po' di legna Poi Ragazzi Io dovrei andare Subito a mangiare In teoria In pratica Tua bisnonna Esplodi da un'altra parte Non da me Dappertutto Ma non da me Cosa Sembra una casa Di un pc Sembra un case Di un pc No Non è un case Un pc Però penso Di farlo in futuro Farò tipo Un case Un pc Con tutta la roba dentro Ci starebbe Secondo me Vado a lavarmi E torno Va bene Brother Ok ragazzi Voglio finire questa parte qua Ciao ciao Ok fin qua ci siamo Vuole fare tipo così da tutte le parti E qui una porta e qui una porta e tipo da qua Sbeng 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 And sbeng Non così Sbeng Non cos'è sbeng Volevo questo Ok Sbeng And sbeng La toglierò Giusto una volta Quando l'avrò finito Comunque in questa live Finiremo Queste torre qua Ragazzi io mi chiudo un attimo in stanza Qua Nascondiamoci proprio del tutto Vado a mangiare E torno Subito Ragazzi vado a mangiare Voi mi raccomando Lasciate un like Alla live Iscrivetevi E attivate la mitica campanellina Grazie a tutti 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 Ecco Grazie a tutti 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 Io vado Ciao Ok Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti Vediamo se Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Ci siamo Abbiamo Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 ecco i due torce ok ragazzi se le trasportiamoci da aaron grazie ma ma sto facendo una live che c'è no la sobra posso così ok voglio fare tipo un'altra cosa ma grazie per cosa brother anzi no ci sarebbe guarda ok la va va bene così io salgo di qua la metto per no mi ha fatto un bisnonna dovevi cadere così aspetta ok cosa stai costruendo sto costruendo una torre ciao ciao dark secondo me stavo uscendo bene adesso vogliamo sempre le scale da la bam 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 che scendono in acqua proviamo una tipa allora entri al discord bra la mia sul tuo discord alla fine ricordi ricordi what vabbè voi voi vi lasciamo andiamo a costruire qua un attimo in senta pace vediamo voi sono curioso cosa volete fare ok allora che volevo fare ah si prende un po' di pietra ma si facciamo ok le scale ne bastano 40 ok 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 E da qui facciamo cadere il tutto Ok facciamo altre porte Va bene così E adesso dovrei fare tipo delle fence Vediamo come usciranno Ok si 13 basta e avanza Ok Ok ragazzo finendo il terzo piano Una piccola idea Vediamo come si vede da sopra Mettiamoci l'elitra Dove sono? Ecco qua E anche due razzi Qui si decolliamo per bene Secondo me sta succedendo benissimo Fa un culo sto legando Ok lo potremmo vedere qui dal balcone No fuck you Bro ma neanche non cambio casa Questo qua è solo una torre Perché ti sento messo Ne chiuso cambiando casa Non fai che una torre Non è una casa E che non lo sta pur riuscendo bene A me piace Oh sentinello Ok Ok prendiamo Otra roba Adesso un diamant finito Ecco qua No, allora non è che se potrete trasportare qua o abitati qua, no, cazzo, potrete trasportare perchè mi avete solo tanto di trasportare per qualche minuto, io lo vado. Ma tutti vogliono stare nel villaggio, eh, 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 eh. Ok. A posto. Tenana, tenana, senana, bang, bang, bang. A posto. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Ok. Ok. Lasciamo la torre così. Ok. 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 Sono curioso di come uscirà di cosa faranno loro, sinceramente Il leone in gabbia grande se vuoi entrare nel serio devi essere iscritto al canale e lasciare anche la live io sto morendo decisamente ma stavo scendo bellissimo qua abito io una mia torre la mia casa delle vacanze il vostro muro degli iscritti il portale persino lui che non so cosa serve ok ragazzi è un villaggio bellissimo bellissimo ci sta un botto ok ragazzuoli io direi di chiudere quella live spero che cosa vi sia piaciuto di lasciare un like, iscrivervi al canale attivare la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ah non dimenticate di seguirmi su Instagram giù in descrizione quindi passati bene ragazzuoli e grazie 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 grazie